Ho sempre detto che quello che dovrebbe essere scritto sulla carta d'identità di un cristiano è peccatore. Non che bisogna gloriarsi di questo, ma bisogna comunque essere onesti con se stessi e riconoscere che siamo deboli e che in qualcosa sicuramente prima o poi sgarreremo. Io sono sempre molto sospettoso di quei cattolici che si mostrano come senza macchia e senza paura, perché mi sembra sempre che ci sia qualcosa che non funziona. Io ritengo che bisogna riconoscere che siamo tutti nel bisogno di essere redenti e quindi peccatori. Riconoscere questa nostra mancanza è un primo passo verso il necessario cambiamento. Credo che uno dei pericoli più grandi per un cattolico sia quello del moralismo, quello di pretendere di essere quello che non si è. Moralismo non è quello di un peccatore che si riconosce come tale, questo non è neanche ipocrisia. Molti accusavano i politici divorziati di andare alle manifestazioni in difesa della famiglia e li definivano ipocriti. No, io posso aver fallito personalmente ed essere in una situazione di colpa oggettiva, ma posso riconoscere che la famiglia ha un ruolo importante nella società e nella mia religione. Io credo che si è ipocriti quando si presenta se stessi come esempio da seguire come un modello e non mi sembra che questo fosse il caso di quei politici. Del resto è inutile pretendere di essere quello che non siamo. In un aspetto o nell'altro siamo senz'altro manchevoli. Credo sia inutile farsi illusioni su noi stessi e sugli altri. Credo sia importante sapere dov'è la linea di confini e che noi l'abbiamo in un certo momento della nostra vita temporaneamente varcata. In questo modo sappiamo sempre di essere dove non dovremmo essere e abbiamo sempre la possibilità di poter tornare indietro. Siamo imperfetti, ma ci viene chiesto di tendere alla perfezione e questa tensione è senz'altro dolorosa. Non ci gloriamo delle cose buone che riusciamo a raggiungere, perché altrettanto dovremmo dolerci delle tante mancanze che abbiamo.